Slittano gli stati generali del Popolo della Libertà di Piacenza, che il commissario provinciale Massimo Trespidi aveva annunciato per la fine del mese di maggio o all'inizio di giugno. In realtà gli avvenimenti politici nazionali stanno tenendo impegnato il segretario nazionale del PDL Angelino Alfano, vice premier e ministro dell'interno del governo Letta. E siccome voglio che ci sia anche lui ai nostri lavori, precisa Trespidi, nei prossimi giorni sarò a Roma per incontrarlo e concordare una data. Gli stati generali azzurri potrebbero quindi tenersi a fine giugno o più probabilmente a settembre. Ma Trespidi sarà a Roma anche per cercare di sbloccare un'altra delicata questione, quella delle aree militari cittadine. Il comune ha avuto con l'esercito nei giorni scorsi un incontro tecnico che aveva programmato. Nei giorni della Dunata degli Alpini il presidente della provincia ha aperto un canale diretto con il ministro della difesa Mario Mauro per dare una svolta politica alla trattativa, l'unico passaggio che può dare impulso alla dismissione a favore di Piacenza su basi accettabili. In particolare occorrerà fare in modo che il ministero intervenga sulle autorità militari per ridurre le loro pretese economiche.